Bene amici, Razor Phone 2 Gaming Phone, allora lo provo con un gioco, anzi 3-1, questo me l'avete consigliato voi per la pesantezza, ma spiegate una cosa, cosa cavolo ci fa una ragazza in reggisene mutande con un mitra in mano? Non lo so, andiamo avanti con la missione, questo è PUBG, gioco immagino spara tutto. Ok, così vado avanti, posso tirare gran pugnazzi, ho collegato il Razor, vedete, al mio solito abbettino USB, ho visto un laggone USB tipo C, esce l'audio, esce il video, come vedete, posso dare mazzate a sta signora, vediamo un po'. Ma che brutta cosa però, dai, le donne non picchiano e non si picchiano, non mi piace questo personaggio femminile, e poi perché non interagisco con lei, perché sta scappando, vabbè, chi se ne frega, quello che mi interessa è il frame rate, sicuramente nel display esterno non ho il refresh a 120 Hz come ce l'ho sul display qua del telefono, lo vedo da qualche lag, questo penso sia un video, allora ho una pausa per raccontarvi, che si, si collega tranquillamente all'abbettino, esce il video, posso tranquillamente collegare, vedete mouse, vedete la freccia lì che si muove, si muove, posso collegare anche una tastiera, non so assolutamente come si giochi, ah, probabilmente, adesso sto giocando col mouse, tra l'altro, si può decidere di, ma, jump, ma questa cosa l'ho già vista, ma, non mi ricordo un po' Fortnite, mi ricorda proprio Fortnite, vabbè, vediamo se riesco con la tastiera ad aprire il paracadute, probabilmente qua mi dà l'altezza dell'apertura, no, devo andare qua, ok, paracadute aperto, certo è che giocare con il mouse e la tastiera è veramente molto, molto comodo, vado a vedere le informazioni del, diciamo che mi dà il monitor, guardate, hdm1, 3840x2160 l'input, ovviamente lo riadatta all'altezza corretta, e se vado qua nelle informazioni del display, io volevo vedere il refresh, refresh, 120Hz, quindi ha fatto il sync con il telefono, e questa cosa non è niente, niente male, tra l'altro, devo dire, guardate, a parte quel piccolo lagghettino, togliamo qua il menu iniziale, ora, che comunque ha tanti poligoni da gestire, devo dire che mi sembra si comporti bene, proviamo con un gioco veramente pesante, non sto a chiudere quello in background, questo, Legend, Shadowgun Legend, ora faccio il caricamento e poi vi faccio vedere come gira, anche qua. Ok, eccoci qua, pronti a sparare come degli sperati, no, 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 la bomba, la bomba, la bomba, non me la ricordo mai, vai, esplosa, possiamo entrare adesso, dai, dentro, corri, un piccolo lagghettino quando è morto il nemico, ma nulla di trascendentale, ma adesso provo a staccarlo dalla TV, vengo qua vicino, così vi faccio vedere come gira, audio, buono, ovviamente molto più secco rispetto a prima, non posso sparare al mio compagno, ma devo dire grande fluidità anche così, anzi, devo dire che il display 120 Hz, no, dico la verità, non si vede la differenza rispetto ai 90 Hz del ROG Phone, audio però stereofrontale, che mi sembra veramente tanto, tanto potente, ma adesso mi manca la prova di Real Racing. Bene, partiamo dalla confezione, che è una delle cose che mi è piaciuta di più, perché c'è tanta attenzione ai dettagli, a partire da queste due parole del fondatore, per arrivare a, guardate qua dentro, la spilletta per togliere il carino da semi, guardate che bella, e poi ci sono anche degli adesivi altrettanto belli, insomma tutto veramente molto interessante, poi in confezione meno interessante questo, lo sdoppiatore per il, non lo sdoppiatore, l'adattatore da tipo C a jack, perché non c'è l'uscita jack cuffie, e poi il cavo, guardate anche qua, l'attenzione al dettaglio, il verde all'interno della tipo C, mi piace un sacco, non ci sono le cuffie, sono da comprare banalmente a parte, alimentatore da 24 watt, carica la batteria da 20 watt ora in circa un'ora un quarto, 55% in 30 minuti, vai, incidente diplomatico con la camera, che era là in fondo, che stava girando, ma quella è un'altra storia, e qua ci sono le cuffie che mi hanno mandato, che costano 90 euro le Hammerhead con USB tipo C, con la cancellazione attiva del suono. Parto subito da qua per dirvi che suonano benissimo, non bene, hanno dei bassi paurosi, hanno una cosa che mi piace tantissimo, che vi faccio vedere subito, le collego sotto, ovvero guardate anche qua il logo retroilluminato in verde, ma vi assicuro che ho provato tante cuffie a cancellazione di suono attiva, anche se là si accende, assolutamente non cambia niente rispetto a quando sono spente, ma comunque già isolano ben di loro, perché hanno questi gommini in ear che isolano tanto, e poi ci sono tra l'altro tutti gli adattatori per i vari condotti uditivi. Anche le cuffie le lanciamo, ed eccoci qua con il telefono, lo sblocco, sensore laterale dell'impronta, funziona bene 10 volte su 10, anche abbastanza veloce, ve lo faccio vedere, guardate, spengo, tac, riaccendo, non c'è lo sblocco con il volto, ma sostanzialmente è un telefono molto difficile da utilizzare, perché è grande, 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 molto poco ergonomico, una piastrella, o meglio, un parallelepipedo, spesso 8,5 mm, pesante 220 grammi, ben distribuiti, ok, ma veramente scomodo da tenere in mano, ragazzi, è un telefono che vi consiglio di provare prima di comprarlo. Ci ho detto, doppio speaker anteriore, camera anteriore da 8 megapixel, da questa parte pulsanti per il volume, belli, molto belli, ripeto, anche qua, guardate, design come è studiato, sono centrali, mi piacciono molto, e poi qua c'è il carlino per mettere una sim più l'espansione memoria che ci vuole, perché purtroppo solamente 64 GB di memoria integrata, e dietro novità al vetro per la ricarica wireless, ma soprattutto rispetto al Razor Phone 1, il logo finalmente illuminato RGB, era stata una richiesta praticamente di tutti i follower, tutti i fan, e finalmente sono arrivati, guardate, tra l'altro cambia spettro, poi vi farò vedere come è personalizzabile, doppia camera da 12 megapixel, stabilizzata otticamente la principale f1.8, la secondaria è una 2x da 2.6 come apertura, e niente, vi faccio vedere un attimino come gira, ovviamente NFC, ok, Android Auto l'ho provato, Bluetooth 5, Wi-Fi Dual Band e OTG, funziona tutto molto bene, ma batteria. Allora, andiamo qua nelle foto, nell'album degli screenshot, non ho fatto lo screenshot alla giornata super stress che ho fatto, perché mi sono banalmente dimenticato di farlo, ma l'ho fatto in una giornata un po' più, diciamo, meno stressante, basso un po' la luminosità, sennò sembra che qua sia in una caverna, buona la scarica costante, poi la sera è andato piatto, e vi faccio vedere come ho usato tanto per le chiamate, 1 ora e 34, quelle chiamate, Instagram, eccetera, eccetera, ho fatto comunque 2 ore e 22 minuti di schermo, 43% a sera, è un telefono che mediamente, giornata stress, arriva a circa il 30%. Quando si va a giocare, nonostante il raffreddamento sia camera di vapore, un po' come il ROG Phone, beh, qua scalda, anche prima quando l'ho stressato l'ha collegato anche con l'hab esterno, all'HDMI, quindi ancora più potenza richiesta dal processore, scarica attorno al 20% ora quando è collegato al monitor, 15% ora quando lo si utilizza e scalda un pochetto qua dietro, se no, utilizzo normale, non scalda assolutamente mai. Display, vi dico subito, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto perché i neri non sono neri, perché non è un AMOLED, ormai tutti i top di gamma hanno AMOLED, ma non perché ci piaccia l'AMOLED, ma perché effettivamente ha una marcia in più, anche se nel lungo periodo qualcuno effettivamente può rimanere scottato dall'impressionabilità dello schermo, ma guardate come è grigio questo schermo sui neri, soprattutto quando lo mettiamo di taglio, ma anche frontalmente non è mai nero, non è mai incisivo, ok HDR, ok 120 Hz, ma anche la luminosità massima, avete visto lo strumento, ok, sotto lo strumento si vede abbastanza bene, però non è mai luminosissimo, non è mai particolarmente convincente, se non per i colori tarabili su tre posizioni, questi sì sono convincenti, tra l'altro vi dico, la differenza tra i 90 e i 120 Hz, io non l'ho vista, occhio, preferisco di gran lunga un AMOLED con un tempo di risposta di un millisecondo. Ci ho detto, torno indietro, ma ve lo faccio vedere subito, dai, il video di YouTube che ormai vi faccio vedere su tutti gli smartphone, con cui sentiamo anche l'audio che è veramente impressionante, guardate, vediamo se aggancia la risoluzione massima, no, siamo a 240, mi sembrava un po' bassina, e allora mettiamo 1440 HDR che viene tranquillamente agganciata, e se l'audio impressiona il video, soprattutto in queste scene scure, guardate, no, impressiona decisamente meno, però come dice prima, buoni i colori, ma quel grigino di fondo mi dà sempre un po' fastidio. Passo indietro, andiamo di ricezione, come dicevo prima, monosim, chiamiamo il 190, non ho mai avuto né problemi di ricezione né di audio, ho fatto tante chiamate, il viva voce è potentissimo perché usa i due altoparlanti. Sentite, l'unica cosa è che i microfoni non sono così sensibili, quando magari lo tengo lì sul tavolo e faccio delle conversazioni in viva voce, dall'altra parte spesso mi dicono, eh, non ti sento, ti puoi avvicinare, quindi altoparlante sì, microfono un po' meno bene. Trittico, velocissimo, qua sono su Instagram, vediamo un attimo, sì, si è aperto in maniera veramente molto molto veloce, vi faccio vedere anche Twitter, non ha nessun tipo di lag o di problema da questo punto di vista, vi faccio vedere anche il gestore delle pagine, gestore delle pagine che vi faccio vedere volentieri perché scrivo qualcosa, ha una vibrazione che va veramente molto bene la vacanza, no, come va la vita, volevo scrivere, vabbè, ma corretto automaticamente, però non si fanno troppi errori, preciso il touch, da questo punto di vista mi è piaciuto, ehm, e vi parlo di, un po' di software di particolarità. Allora, andiamo qua, Cortex, che è praticamente il, diciamo, la zona dedicata ai giochi, c'è qua lo store dei giochi, dove si possono andare direttamente a scaricare, quelli che noi abbiamo scaricato e con cui giochiamo, ho fatto vedere come ci ho giocato prima, e poi questa personalizzazione, gioco per gioco, ovviamente possiamo anche aggiungere, eh, altre, altre cose a questa, a questa schermata, possiamo, vedete, aggiungere, rimuovere i giochi, ma, gioco per gioco possiamo decidere, la, il livello di performance, con il clock della CPU, fino al minimo, al massimo, la risoluzione dello schermo, che possiamo, eh, settare su varie risoluzioni, possiamo scendere anche a 720p, se non sbaglio, al minimo, ma, eh, si setta da qua, anche la velocità di refresh, come fotogrammi al secondo, anti, agli esing, sì, no, e si può decidere anche qua, e poi soprattutto il clock della CPU, che può arrivare appunto a 2.80 GHz, i giochi che vi ho fatto vedere prima, li avevo pompati al massimo, quindi erano tutti settati sul massimo delle, delle prestazioni, possiamo decidere se attivare il, non disturbare o meno, e in base a il profilo che scegliamo, vedete qua, ci dà, diciamo, la, ehm, previsione di batteria rimanente, devo dire che anche se lo teniamo a un livello, non proprio al massimo, ma, mh, quasi al massimo, non ho mai notato lag o cricità, negozio temi, molto ben fatto, ci sono veramente dei bei, dei bei temi, io me ne sono scaricati 4, ogni tanto mi divertivo a cambiarli, purtroppo, non si vanno a cambiare tutte le, mh, diciamo, icone, vedete, ne cambia qualcuna, ma tutte le altre rimangono, rimangono così, mi sarebbe piaciuto avere una personalizzazione più spinta, nelle impostazioni poi c'è la possibilità di personalizzare, eh, il logo dietro illuminato, e possiamo settare anche qua, su un risparmio energetico, su un utilizzo medio, o su un utilizzo alto della batteria, eh, possiamo anche, eh, andare a associare il caricabatterie wireless razor, per andare a far blinkare anche lui, eh, di luce propria, diciamo, e qua nelle informazioni, vedete, ci fa vedere che cosa cambia, attivando la, diciamo, modalità di batteria, basso consumo, o alto consumo, ma io sono così da marro, che l'ho lasciato sempre acceso, e tra l'altro, gli effetti di, eh, del cromatismo, possono anche venire, venire cambiati, possiamo anche andare a settare, la, diciamo, la, la colorazione, dove cavolo era la possibilità di settare la colorazione, me la sono persa, qua, ok, vedete, posso fare un respiro, quindi una luce che si accende e si spegne, lo spettro luminoso, oppure una luce statica, se voglio che sia sempre illuminato di un determinato colore, e anche la potenza dell'illuminazione, quindi molto personalizzabile, si può attivare anche quando arrivano delle notifiche, veramente un valore aggiunto, questa, questo, questo led qua dietro, vi parlavo di, di, di parte multimediale, no, non ve ne parlavo, ve ne parlo adesso, entro nella, eh, fotocamera, mettiamo subito a fuoco, Buz, vi faccio vedere la velocità di messa a fuoco, che comunque, eh, è buona, camera 2x, vedete, si cambia, eh, toccando questo pulsante, video che possono essere girati, massimo in 4k, a, però, 30 frame per, per secondo, e poi, e poi, foto verticale, che sostanzialmente è il bokeh, effetto ritratto, lo fa con la, eh, camera 2x, come giusto che sia, effetto bellezza, e foto panoramica, che, vedete qua sotto, torno alla foto normale, standard, per farvi vedere nelle impostazioni, cosa possiamo cambiare, e qua, a risoluzione del, del video, non ho trovato il modo di mettere, il 1080 a 60 frame per, per secondo, e, e basta, queste sono le varie impostazioni, torno indietro, vediamo come scatta le foto, andiamo qua, partiamo da qua, è qua, che sono partito a scattare le foto, quando utilizzo l'applicazione stock di Google, a volte mi sincronizza con altri telefoni, e devo ricordarmi dove sono partito, macro, venuta bene, devo dire, anche questa, questo panino, venuta bene, anche questo piatto, invitante buono, invece qualche problemino di fuoco, in questo selfie, fatto con l'effetto bokeh, l'effetto ritratto, uno di voi, mi ha beccato, contro luce, non benissimo, a favore di luce, un pochino meglio, siamo un po' palidi, però la camera anteriore, non convince particolarmente, con poca luce, abbastanza bene, abbastanza bene, questa è la foto panoramica, questa è la foto 2x, come ho retto, per farvi vedere, i colori, purtroppo giornate un po' pessime, qua a Milano, grigie, quindi i colori sono un po' influenzati, anche da quello, questo scatto notturno, vi dico la verità, non mi ha convinto particolarmente, Unicredit l'ha un po' bruciato, anche il cielo, insomma bene, questo invece è molto meglio, macro notturne, molto bene, con un bokeh naturale, vedete là, dello sfondo dei semafori, diciamo, non da top di gamma, da buon, medio di gamma, e devo dire che i video, anche qua, stessa considerazione, buon, medio di gamma, foto un po' sotto, ai top di gamma, ma l'audio, e allora vi faccio ascoltare, ascoltare subito, Tuesdays, Spotify, vai, alzo il volume, eh ragazzi, qua pompa veramente tanto, l'audio è una delle cose, che mi piaciute di più, di questo telefono, non c'è una cosa, che non mi sia piaciuta, ma, dopo aver provato il ROG Phone, e vado lì, perché comunque, due telefoni destinati al gaming, trovo che questo sia, un po' poco studiato dai gamer, perché in effetti, il fatto di, per esempio, non avere, un jack per le cuffie, e quando gioco, magari non voglio, perdermi la partita, voglio ricaricarlo, allora se non voglio, usare le cuffie wireless, perché magari non sono sincronizzate, proprio al millisecondo, voglio utilizzare quelle cablate, e non posso, perché, come faccio, se metto qua la cuffia, non posso mettere anche la ricarica, non c'è la ricarica sotto, che trovo veramente comoda, per quando gioco in orizzontale, averla qua, mi dà fastidio, invece, gli altoparlanti, suonano veramente bene, però, rispetto ad altri top, costa o meno, 749 euro di listino, da aggiungere però, attenzione, 90 euro di cuffie, ma, ne potete aggiungere anche altre, non è bisogno, non c'è bisogno di aggiungere, quelle là, tra l'altro, potete utilizzare anche le vostre, visto che siete, se siete gamer, le avete, e usare l'adattatore, rispetto a ROG Phone, 150 euro in meno, ma, cominciò prima, manca il jack, va sotto l'adattatore, insomma, bla 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 bla, ve l'ho già detto, poi, hai limiti dell'inusabilità, nel quotidiano, per quanto è scomodo, da tenere in mano, questa forma squadrata, va bene se, fosse più piccolo, più compatto, è molto bello, mi piace come design, però, veramente, l'utilizzo quotidiano, ho fatto, ho fatto fatica, bellissimo il logo dietro, RGB, va bene la batteria, ok che è impermeabile, va bene anche la ricarica, wireless, 8 giga di RAM, ok, allora, più bello di ROG Phone, anche meno caro, ma, vi dicevo, meno usabile nel quotidiano, senza la presa laterale, che trovo geniale, insomma, un po' bah, e poi solo 64 gigabyte di memoria, ormai sono troppo pochi, i giochi pesano tanto, e non tutti, anzi pochi vanno sulla SD, vabbè, ripeto, un po' bah, ciao!